Gravi incidente nella notte fra martedì e mercoledì nei pressi di Chignolo Po con tre feriti portati d'urgenza all'ospedale. L'incidente è accaduto attorno all'una del mattino sulla strada provinciale 193, poco fuori dal centro abitato di Chignolo, in direzione di Badia Pavese. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un'automedica e anche l'elisoccorso, giunto da Como, che ha poi trasportato in codice rosso una donna di 42 anni, in gravi condizioni, all'ospedale di Cremona. La donna, di origini tunisine, non sarebbe in pericolo di vita. Ferita in modo più lieve, la giovane di 19 anni di nazionalità pakistana, residente a Codogno, che sembra fosse al volante della Hyundai su cui viaggiava l'amica tunisina. Ferito anche il conducente dell'altra auto, un 43enne originario della Romania e residente a Castiglione d'Adda. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale.